Qua sia lavabilissima Sta fascia... Ma hai cambiato di nuovo divisa o sbaglio? No, no, la stessa Merda Lion Creek Eh vabbè però Ma... che cazzo? Ma... non ho capito No Cazzo, io ho provato A prenderlo all'ultimo momento Merda Questa potrebbe essere brutta No, vabbè dai Avevi l'arc bridge fino a un attimo prima E adesso no Ok Questa farà malissimo Eh no, perché l'ha fatta... L'ha fatta l'altra Che succede? Piottrò il latino Piomenino Oh Merda Sì Ma? Stavo con R1 Merda Merda No Ai ma sorry Sì ma Pierre che cosa? Ok Merda Non ci credo Dai Sto cazzo di R2 Che non parte Ma è nemmeno Pierre Che me lo fa selezionare Vabbè Ah cavolo Riggiasciuto Oh no 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 dai Ero appena arrivato In range Sì No Merda No No Io ripeto R2 comunque non serve a un cazzo in questo gioco ormai No Stavamo tutti due vicini Tra l'altro non potevi avanzare perché c'avevo Alberto proprio nella tua gola No Morigna di merda Minchia col drive usciuto da Quanto cazzo hai tolto porca Meno male Sono stupido Minchia Com'è che avevo così poca Vedi ma C'è qualche bug No è soluzionata che ti passo vicino Con la scivolata Però dite che stai facendo un'animazione Non ti toglie il Riccardo Sì No Sì cazzo Non ci credo Mattonellizziamo Guarda No R2 del cazzo che non funziona Io mo cambio pad Eh vabbè Poi c'ho sto vizio di passarti la palla No Non ci credo Che culo di merda No vabbè Troppo forte Blake cazzo Troppo forte Ero con R1 Guarda Cazzo No Minchia Di nuovo Ma cosa Ma non ha fatto il super tiro Tra l'altro io mi sono sprecatissimo La v-zone Merda No Sprecatissima Cazzo Speravo di fare qualcosa Con quel tiro lì Di Minchia Con quel tiro di Minchia 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 Per un attimo Cazzo il cuore Il cuore Il cuore Oh Mi merda No, ma batti pure tu, che cazzo. Però la palla arriva a me, va bene. Ma ho premuto fare. Ah, guarda. Merda. Minchia! Un cazzo di trattore, sto black di merda. Però non sono in vantaggio, quindi non dovrebbe teoricamente entrare. Meno male. Eh, ma che cazzo? Ma che è sta roba? Ti prego, salta. Ok. Ma? Per forza Merda Merda Per forza Perforza Perforza ti prego ti prego merda come si è secondo tempo? ok eh vabbè dunque non ho visto ancora una volta neanche una volta a Jean-Pierre fare il blocco ma gli hai messo quello di Alberto hai detto? no quello di Jean-Pierre, cioè quello di Pierre quello di Jean-Pierre no sto cazzo minchia volevo smattonellizzare o almeno provarci si fa un culo eh vabbè Ryan la minchia ma non ha senso ti prego vabbè non ha senso per te due senti pure gg tra l'altro flashando il portiere senza animazione buggata quindi legit no vabbè perchè so come andrà a finire questo tiro mi metterò mi metterò no 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 guarda guarda che ma vale si 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 no 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 me l'ho fatto con me l'ho fatto con con cazzo no ma che cosa ero full stamina ed eri di stamina no ma che cosa vabbè ho capito passiamo alle maniere forti qui salve io sono il signor maniere forti esci ti prego ti prego no per un pene per un pene io pensavo che entrasse perchè io ho visto fare la curva ho detto questa è dentro no vabbè eh cazzo eh mi dispiace sembra duruta ha l'insure fizz ma porca puttana eh vabbè ma perde troppa stamina fare contrasto aah cazzo ti prego di as ti prego cosa ok vorrei che minchia sembra rapine vinci per quanto ho vinto è uno spudo di niente però che falle nooo ma che cancro eh forza merda madonna ma che bella rapine merda ma tipo ti stai allenando un botto o mi hai impressionato no no perchè c'è mi sta venendo tutto più difficile che palle che palle nooo mmm che palle non devo aspettare eh vabbè ma l'ho presa io non ci credo vabbè ma l'ho presa io non ci credo vabbè sto cazzo io era la mia v-zone quella utilizzata ma non l'ho utilizzata la v-zone io pensavo l'avessi utilizzata tu infatti ho detto minchia se l'hai sprecata alla grande e invece sono io lo stronzo che culo io tra l'altro e palle nooo nooo cazzo minchia l'ho vista lento però esatto perchè si è mosso proprio all'ultimo Müller ma che palle i Jean-Pierre non la carica mai la Stam vabbè adesso c'è così ma cazzo ma Diaz dove minchia è? ma se tu ho scritto se ci muove così per bene eh dai Diaz corri 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 merda Lion-kun sei la mia unica e ultima porco minchia Sangoruken oh no albierto non ci credo loooooooool ma vaffanculo nooo non c'è rigori merda vabbè eh peccato cazzo questa partita è incredibile ehm 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 bella bella la sigla di Pornhub su su Ring Fit Adventure veramente stava ma non l'hai sentita? no quando ti ho mandato il video Nel video c'era questo beat No, non l'avevo sentito Oh no, ma io che zigno LOLOLOL Attenzione, che zignone Oh Colui è entrato al secondo tempo Perché so che bestemmiero? Eh no E invece Fuck Però ci ho pensato, sai Ho detto, dai, ora io la butto al centro Lui magari non se l'aspetta Oh ma tu te le prendi? Cazzo Ci avevo pensato Le dura, le dura Un po' Cazzo, volevo fare al centro Ho detto, no, vabbè, ma non tirerà mai al centro Ripperoni Lo so già dove tirerai Questo ne sono sicuro Invece no Invece E io l'ho fatto L'ho detto proprio per non far tirare al centro Invece E in effetti Guarda Mi ha fatto un po' titubare questa cosa Ho detto Aspetta Bella E io l'ho fatto un po' titubare al centro